Francesca Napodano, non era facile, ci si aspettava una battaglia, così è stato, ma alla fine la cosa più importante, Novara porta a casa la vittoria. Sì, assolutamente, volevamo e dovevamo vincere. Non è stato facile l'inizio, probabilmente perché dovevamo prendere un po' di confidenza, visto le ultime tre gare che siamo andati a scontrarci con Conegliano e non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, quindi probabilmente abbiamo iniziato un po' con il freno a mano tirato, ma poi quando ci siamo sciolte siamo riusciti a fare il nostro gioco. Adesso c'è gara 2 a Perugia, sarà importante fare un'altra partita di grande sacrificio come oggi? Certo, sappiamo che sarà una battaglia, forse sicuramente ancora più tosta di questa, ma noi ora riposiamo, poi ricominciamo ad allenarci e subito testa a mercoledì. Qual è il fondamentale secondo te che oggi ha svoltato un pochino la partita dopo il primo set e mezzo? Sicuramente all'inizio non abbiamo murato e difeso come avremmo dovuto, avevano tanti palloni, eravamo un po' disordinate, quindi penso che poi e anche in attacco il primo set non riuscivamo a trovare soluzioni. Poi quando siamo riusciti a difendere qualche palla in più e a mettere giù qualche palla di più è andato tutto meglio, quindi direi muro e difesa e poi anche l'attacco in secondo luogo.